Quali sono i numeri di questa manifestazione? Quali sono le prospettive per il judo italiano? I numeri sono numeri importanti, 72 nazioni, quasi 500 atleti, un lotto di partecipanti molto agguerrito e fra questi atleti stiamo vedendo sicuramente quei ragazzi che saranno protagonisti per le prossime Olimpiadi di Parigi. Quindi una gara tecnicamente molto valida, molto importante e non peraltro sono presenti in azione da tutti i continenti.